Buongiorno a tutti, la laurea magistrale in chimica dell'ambiente è unica nel suo genere a livello nazionale e si prefigge lo scopo di formare un chimico che abbia competenze molteplici che possono essere utilizzati in primo luogo per conoscere l'ambiente e soprattutto per comprendere i processi che avvengono nei diversi contesti ambientali per poter sviluppare dei sistemi che possano, innovativi e efficienti, che possano proteggerlo dalle azioni devastanti delle attività antropiche. Questo ovviamente riveste un'importanza fondamentale oggigiorno per l'intera società. Quindi la laurea magistrale in chimica dell'ambiente permette di acquisire ovviamente una conoscenza dei processi chimici e ambientali, di conoscere le interazioni che avvengono tra le attività umane e l'ambiente, ma non solo, permette anche di avere un'ottima conoscenza delle tecniche strumentali in modo tale da sviluppare una capacità creativa e consapevole per sviluppare processi a basso impatto ambientale e per risolvere problemi reali ad elevata complessità, quali possono essere appunto i problemi di degrado ambientale. Quindi la laurea magistrale in chimica dell'ambiente vuole formare una figura ad elevato indirizzo professionale che sia capace di valutare l'inquinamento ambientale grazie alle conoscenze del stato dell'arte e della ricerca in questo ambito. Permette quindi però anche di sviluppare procedure di intervento e di processi innovativi, efficienti e a basso impatto economico che possano risolvere problemi di degrado ambientale emergenziali. La laurea magistrale in chimica dell'ambiente è costituita da 78 CFU di corsi obbligatori, 12 CFU di corsi liberi a scelta e 30 CFU che vengono dedicati alla tesi sperimentale. I 70 CFU di corsi obbligatori abbraccino diversi ambiti disciplinari e quindi non si riferiscono soltanto alla chimica dell'ambiente ma comprendono anche corsi di chimica analitica, chimica fisica, chimica inorganica, organica farmaceutica e fisica. I CFU vengono distribuiti, dei corsi fondamentali vengono distribuiti maggiormente nel primo anno relativamente in modo egualitario tra il primo e il secondo semestre dove vedete che compare una elevata componente laboratoriale proprio perché si vuole dare al chimico delle capacità di conoscenza delle tecniche strumentali per poter risolvere problemi ad elevata complessità con le attreziature e le metodiche opportune. Nel secondo anno il numero di CFU risulta essere decisamente più ridotto, non vi sono attività laboratoriali, questo per dare spazio all'attività sperimentale della tesi. Quindi vi è una elevata componente sperimentale, infatti ci sono ben 176 ore di laboratorio e questo dà un valore aggiunto tenendo conto che il numero di iscritti alle lauree magistrali non risulta essere mai estremamente elevato e questo dà la possibilità di utilizzare anche i laboratori di ricerca e strumentazione avanzata che può essere utilizzata in prima persona dagli studenti in modo da acquisire quelle compotenze che possono essere poi utilizzate in qualsiasi colloquio di lavoro futuro. Relativamente ai 12 CFU di corsi liberi, questi possono essere scelti nell'ambito appunto di quelli offerti dall'Ateneo di Torino. Di questi sei CFU possono essere convertiti in stage che possono essere eseguiti o presso aziende o presso organi di controllo ambientale come per esempio l'ARPA oppure come terrocini all'estero grazie anche al bando Erasmus e Trenship. Per quanto riguarda la tesi sperimentale può essere svolta presso appunto l'Università di Torino che presenta molteplici tematiche di ricerca su diversi ambiti scientifici ma anche presso l'Università all'estero grazie agli accordi Erasmus ma anche alle collaborazioni del personale docente del Dipartimento di Chimica oppure presso enti pubblici e privati o aziende. Vi ho riportato poi i docenti del corso di laurea. Per quanto riguarda gli sbocchi professionali quindi in primo luogo vi sono degli sbocchi professionali che riguardano l'ambiente quindi sia la tutela dell'ambiente che la gestione ambientale ma non solo vi sono anche sbocchi professionali che riguardano la ricerca, l'industria alimentare, farmaceutica, cosmetica che riguardano l'insegnamento, il controllo di processo e perché no anche l'imprenditoria. Per quanto riguarda infatti i nostri laureati essi hanno trovato occupazione soprattutto nel campo ambientale ma anche nella ricerca accademica e in diversi settori industriali quali per esempio il farmaceutico o alimentare. Una certa percentuale di studenti hanno, di studenti, una certa percentuale di laureati con una spiccata capacità di innovazione hanno anche dato luogo a delle start up. Se volete ascoltare appunto le presentazioni fatte da alcuni nostri laureati potete trovarle praticamente sulla pagina sulla piattaforma Moodle sulla pagina di orientamento in ingresso del corso di laurea magistrale in chimica dell'ambiente. Le informazioni per accedere a questa pagina sono riportate su Facebook e qui vi ho riportato i contatti che potete utilizzare per chiedere ulteriori informazioni relativamente a questa laurea magistrale.